Il re d'Israele e l'angelo della morte Si racconta che un re tiranno dei re d'Israele sedeva un giorno sul trono della sua sovranità e vide entrare dalla porta del suo palazzo un uomo di aspetto severo e di apparenza terrificante. Indignato da quest'irruzione e spaventato dal suo contegno, il re balzò in piedi esclamando «Chi sei tu, uomo? E chi ti ha permesso di entrare da me e ti ha ordinato di venirtene in casa mia?» Rispose il visitatore. «Me l'ha ordinato il padrone della casa. Io non ho ciambellani che mi introducano e per entrare dai re non mi occorre permesso. L'autorità dei sovrani non mi fa paura né il gran numero dei loro soldati. Io sono colui che non dà pace ai tiranni e nessuno può sfuggire alla mia presa. Sono colui che mette fine alle delizie e separa le compagnie». Udendo queste parole, il re cadde con la faccia a terra e un tremito si insinuò nel suo corpo. Perdette i sensi e rinvenendo disse «Tu sei l'angelo della morte?» Rispose «Sì», disse il re. «Ti scongiura in nome di Dio. Concedimi un giorno solo perché io domandi perdono delle mie colpe e ottenga l'indulgenza dal mio signore e restituisca le ricchezze dei miei forziari ai loro padroni. Così non dovrò sostenere il travaglio della resa dei conti e il dolore del castigo». Disse l'angelo della morte «Oi boh, non sia mai. Per te non c'è scampo. Come potrei concederti una dilazione quando i giorni della tua vita sono computati, i tuoi respiri numerati e il tuo tempo prestabilito e scritto?» Disse «Concedimi un'ora». «Anche l'ora è compresa nel conto. Passò e tu non te ne curavi ed è trascorsa. Hai esaurito i tuoi respiri e te ne resta uno solo. Domandò il re «Chi verrà con me quando sarò portato alla tomba? Soltanto le tue opere ti accompagneranno. Io non ho opere. Allora, indubbiamente, il luogo del tuo riposo sarà l'inferno e il tuo destino la collera del signore». Afferrò quindi l'anima sua e il re precipitò dal trono per terra. Seguì clamore fra la gente di corte. si elevarono voci ed alte grida e pianti. Se avessero saputo che cosa gli preparava l'ira del suo signore, i loro pianti su di lui sarebbero stati ancora maggiori e i loro lamenti più forti e più abbondanti. grazie a tutti. Grazie a tutti.